Benvenuti nel mondo degli orologi Stallen. Stallen è un marchio di orologi di lusso fondato a New York nel 1999. Il marchio si è rapidamente affermato sul mercato grazie alla produzione di orologi di alta qualità con un design unico e distintivo. La collezione di orologi Stallen comprende una vasta gamma di modelli, ognuno caratterizzato da un design unico. Gli orologi Stallen sono disponibili in diverse versioni, tra cui orologi da uomo e da donna, orologi automatici e orologi al quarzo. Gli orologi Stallen sono realizzati utilizzando materiali di alta qualità, come l'acciaio inossidabile, l'oro e la pelle. La scelta dei materiali è studiata per dare vita ad orologi unici e distintivi, capaci di soddisfare anche i gusti più esigenti. In particolare, l'oro viene utilizzato per creare orologi di lusso con un design elegante e raffinato, mentre l'acciaio inossidabile viene utilizzato per creare orologi robusti e resistenti. Gli orologi Stallen sono molto apprezzati anche per le loro funzionalità avanzate. Tra le funzionalità offerte ci sono la resistenza all'acqua, la cronometrazione, la data, la visualizzazione del fuso orario e molte altre. Queste funzionalità rendono gli orologi Stallen perfetti per chi cerca un orologio resistente e funzionale. Inoltre, Stallen è noto per la produzione di orologi con complicazioni uniche, come ad esempio la funzione di indicazione delle fasi lunari. Queste complicazioni aggiungono un tocco di originalità e di esclusività agli orologi Stallen.